I carabinieri della compagnia di Taurianova, unitamente ai militari dello squadrone riportato cacciatori di Vibo Valencia, hanno rinvenuto e sequestrato un vero e proprio bunker realizzato all'interno di un'abitazione privata di un 46enne locale. Il bunker era costruito al di sotto di una camera da letto dell'edificio ben occultata nel pavimento che consentiva l'accesso al vano interrato. Dal varco si accedeva quindi ad un locale totalmente interrato in cemento armato, dalle dimensioni di circa 3x3 metri e alto circa 2 metri, con impianto di illuminazione elettrica e un sistema di areazione mediante fori che consentivano la permanenza all'interno anche per un prolungato periodo. La botola scomparsa era azionabile con tassi elettrici sia dall'interno che dall'esterno, creando una struttura automatizzata di difficile individuazione particolarmente efficace per nascondere armi stupefacenti o anche latitanti. Sono in corso ulteriori accertamenti per verificare se il manufatto sia stato utilizzato nel corso del tempo anche da esponenti delle locali cosche di Indrangheta per sottrarsi alle catture. Il proprietario dell'abitazione è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di abusivismo edilizio e il locale posto sotto sequestro. Un nascondiglio particolarmente efficiente realizzato all'interno di un'abitazione distante dal centro abitato, ancora una volta individuato grazie al capillare controllo del territorio dei carabinieri per contrastare ogni stratagemma e strategia di azione della criminalità organizzata.